Noi ci rivolgiamo proprio a queste donne, alle donne che noi le chiamiamo D+. Significa che sono le donne che portano reggiseni con la coppa dalla D in su. Visto però che tali del reggiseni, che sono più di 200, arrivano fino alla coppa KK, la coppa D possiamo considerare quasi piccola. Il corpo sinuoso delle donne e le curve generose non sono più un tabù per l'allingerie e costumi da bagno grazie al Fitbra che a Napoli è stato sdoganato da Patty Bloom. Il bra fitting si basa sulle tecniche di misurazione che permettono di trovare la taglia corretta e il reggisano giusto per ogni donna. Il bra fitting è per tutte le donne, però le donne con seno medio, medio grande o prosperoso sentono bisogno del supporto più concreto, allora ovviamente possono beneficiare di più di questo trend innovativo. Dopo Milano e Roma, il progetto che intende promuovere la bellezza in ogni sua forma approda anche a Napoli nello store di via Carlo Poerio a Chiaia. Avevamo tantissime le richieste dalle clienti da Napoli e noi apriamo dove siamo richieste. Un aperitivo per presentare la nuova collezione lingerie e costumi, ma non con una sfilata, bensì con una consulenza, momento fondamentale per il Fitbra. Praticamente noi qua siamo pronte per l'arrivo dell'estate. Un nuovo modo di concepire l'intimo e star bene con se stesse. Il nostro modo di lavorare è molto personalizzato, come il nostro servizio. Noi ti chiediamo di prenotare un appuntamento, così ti dedichiamo 30 minuti proprio solo a te, entriamo con te dentro il camerino, ti misuriamo e ti facciamo tutta la consulenza a 360 gradi. Dopo la misurazione proviamo uno dei nostri regisegni, ti chiediamo come ti senti, perché le nostre tabelle e anche il metro da sarta è una cosa. La tua sensazione, le tue esigenze sono sempre più importanti per noi. Perché ognuna di noi ha le forme uniche e queste forme devono essere trattate, devono essere vestite in modo molto personalizzato. Potete cliccare www.patibloom.it e c'è un bottone prenota il tuo appuntamento. Grazie a tutti.